Come nasce questo progetto di coinvolgere alcuni vostri studenti che sono all'interno dell'Istituto di Pena in questo progetto così interessante? L'idea è scaturita dalla prima visita presso la casa di reclusione di Fossombrone, quindi assolutamente un'idea estemporanea. Nel momento in cui ho visitato, ho avuto modo di visitare grazie alla disponibilità di tutto il personale del carcere che approfitto appunto per ringraziare, appena ho avuto modo di visitare il teatro che hanno a disposizione all'interno del carcere, ho pensato fosse il luogo ideale per poter porre in essere una iniziativa di inclusione culturale tra gli studenti che vivono nel carcere di Fossombrone, nella casa di reclusione, e gli studenti che frequentano gli indirizzi professionali e tecnico del nostro istituto. Ciò che mi animava in quest'idea era la possibilità di far sì che al di là di ogni stereotipo, quindi al di là delle differenze che esistono, e di inevitabili confini fisici, si potesse invece superare tutto questo per essere uniti in una splendida forma di umanità. Com'è nata l'idea di unire Shoah e Foibe, insomma, per rappresentarla in teatro? Allora, l'importante era tenere vivo la memoria della nostra storia passata, degli eccidi, delle pulizie etniche, soprattutto tenere vivo appunto la memoria affinché non si ripeta quello che è stato. L'idea è venuta proprio dal fatto che c'è ancora il negazionismo diffuso, l'indifferenza, come dice Liliana Segre, la cosa che fa più male è l'indifferenza. E bisogna combatterla, soprattutto nelle scuole, perché sono i ragazzi a dover tenere viva la memoria. È stato subito accolto positivamente, ho avuto una collaborazione totale da parte degli studenti esterni al carcere e gli studenti detenuti. È stata un'esperienza positivissima. Che cosa le rimane di questa esperienza? Soprattutto mi rimane l'aver instaurato un rapporto bellissimo con tutti gli studenti, detenuti e nonna, e sono crollati proprio quelle barriere che magari si pensa ad avere prima di affrontare il percorso. È stata un'esperienza bellissima per me da ripetere. È stata un'esperienza bellissima.